in fondo al mar in fondo al mar tutto bagnato è molto meglio credi a me non vorrei mai vivere in fondo al mare ma come ti piace così tanto la sirenetta ma infatti anche lei voleva vivere sulla terraferma secondo te dove come sarebbe dove ma vicino al mare che domande e va bene hai ragione progettiamo e costruiamo una casetta per lei non serve progettarla vieni con me ce l'ho già oh ma guarda hai già un kit per la casa in miniatura sì sì visto adoro costruirle e anche tu lo so ragazzi da qui tireremo su una bella casa per la sirenetta come la decoriamo semi con tantissime conchiglie ottima idea vai tu a raccoglierle in fondo al mar potrei farlo sai fermo lì piccolo sub mi sa che le conchiglie le abbiamo già ai capitano per la nostra casa servono tante belle luci lo sai che esistono anche coralli fosforescenti negli oceani ma non esistono conchiglie luminose terra 1 mare 0 è vero semi dai cominciamo la finestra e il telaio dove inseriremo poi la porta susi sono stanco le prendi finalmente oh scusa la nostra sirenetta amerà queste decorazioni aiuto susi tranquillo ho già messo il filo che terrà su le pareti che state bisvegliando semi sta dicendo che un piano solo non basta meno male allora perché ci sono due piani nel kit montiamoli su manca qualcosa mettiamo le tendine di già va bene ecco di accontentato oh e se piove serve un tetto niente panico semi lo mettiamo subito su di annegheremo ma è una casa per sirenette sanno nuotare semi comunque diamogli una sistemata così stai tranquillo così va meglio molto meglio ma qui che ci metterai qui potranno ripararsi dal sole o dalla pioggia e anche qui c'è un sacco di spazio vedi semi è così buio non ci vedo susi dove sei ehi semi aspetta ti aiuto che convini grazie si era per dire che la casa è ancora buia una cosa per volta ma vedo che hai già preparato tutto ho avuto qualche problema con i fili mi sono incastrato tranquillo ti aiuto io vieni qui bello rifacciamolo mi piacerebbe ma poi come illuminiamo la casa per illuminare il primo piano ho messo una bella lanterna anche fuori in fondo al mar qui ci vibra ariel in persona e lei ama la musica hai ragione le ricorderà la sua casa nel mare sentiamo un po questo carillon che bello ricordi che avevamo lo stesso carillon anche nel camper ma certo e voi ragazzi lo trovate nel link qui sotto volevamo andare a parigi quella volta ma dove sono le scale saranno qui semi vieni qui dove è nascosto le scale facciamo un gioco se le trovi farò tutto quello che vuoi ok trovate pronto a fare quello che voglio ehi ma così non vale fai almeno finta che fosse difficile niente paura semi ti chiedo solo di montare i mobiletti per la casa come no se ti servo sarò di là ok semi sembra a posto guardate che carino questo cartellino sulla porta adesso mettiamo anche lo steccato ecco qui chissà che sta combinando semi semi tutto bene di là ho combinato un guaio con la colla non posso muovermi mi sa che ci serve una piccola pausa torniamo subito ecco fatto mentre semi si pulisce dalla colla mi dedico a questo tavolino un altro pezzo e voilà guardate che carino appena in tempo faccio io faccio io allora tutto fatto sono contentissimo veramente c'è ancora un sacco da fare semi mi aiuti cosa scusa mi attirava quel bel divano già ma nemmeno quello è finito forza con i cuscini giusto i cuscini me li ero scordati aspetta semi non trova proprio pace susi giochiamo a cuscinate questi cuscini sono troppo belli e comodi per giocarci semi guardate che capolavoro di divano abbiamo fatto che cuscini bellissimi stupendo ok facciamo a cuscinate un'altra volta semi anche questo non l'hai montato che cos'è questo è un tavolo e no è un comodino a non ricordo va bene scopriamolo prima dai lati così mi ricordo però che ci vanno sopra questi ricorderanno il mare della sirenetta perfetto poggiali qui spero proprio di non romperli cassettiera pronta non è bellissima sistemiamoci tutto sopra manca qualcosa però semi nascondi qualcosa su voltati susi volevo tenermelo per ricordo ah non mi sfugge niente sistemiamo i mobili adesso la cassettiera sulla parete in fondo il tavolino ad angolo sotto la finestra e tanti sgabellini comodi accomodatevi prego madame monsieur guardalo col stivateio sembra un'alga di mare è bellissima che bel verde mettiamola qui sì ma dove saranno le feste la nostra sirenetta avrà un sacco di amici che verranno a trovarla dal mare proprio qui ci mettiamo il sofà bello grande per gli ospiti e il tavolino da caffè ho fatto una magia queste piantine le ricorderanno i coralli e se si facciamo una pausa c'è ancora tutto un piano da arredare ok semi ragazzi vi sta piacendo il video mettete un bel like noi torniamo subito oh che c'è oh no accidenti ho dormito troppo si io perché non mi hai svegliato volevo aiutarti ad arredare dormivi così bene semi non ti ho voluto svegliare e va bene che posso fare guarda in giro sono sicura che troverai qualcosa sì come no qualcosa pioverà giù dal cielo ma questa poi è davvero caduto giù dal cielo te l'avevo detto no ecco una bella coperta e dei soffici cuscini sfido a trovare di meglio anche in fondo al mar specchio delle mie brame chi è il più bello del reame naturalmente tu lo slime più bello del reame siete d'accordo ragazzi un bel like al nostro semi sono anche il più veloce ad arredare guarda tutto il suo posto fatto questo bel comò non può star qui da solo mettiamogli accanto anche questo comodino fantastico avete notato che tutto quanto è decorato con le conchiglie già che bello stile retro come piace a me quanto è bello il letto mettiamolo quassù si io voglio tenermi questo specchio ha detto che sono il più bello non ti serve lo specchio te lo dico anche io ogni giorno semi lo specchio servirà alla nostra sirenetta e io ti farò un sacco di complimenti giuro gli ultimi ritocchi qualche pantofolina vicino al letto perfetto adesso sistemiamo il tetto e il primo piano è fatto oh no ci sono i topi più la casa è tutta rovinata ma no è che dobbiamo ancora fare il portico mettiamo un tavolino nell'angolo e due belle poltrone con comodi cuscini ecco meno male ok vado a farmi una nuotata aspetta sammy questo qui non è tuo mi sa mettiamolo qui e qualche infradito pronte per essere indossate per andare in spiaggia una vera casa sulla spiaggia mettiamoci anche un cartello ottima idea mettiamolo qui ma che bel posto per prendere il sole però mi pare un po' vuota siu hai ragione ci vuole un tavolino coi dolcetti sopra e un comodo lettino non vorremmo mica far stare ariel sul pavimento guarda siu ho fatto una rete da pesca pensi che prenderò qualcosa ho preso l'ho preso aiuto siu siu oh sammy in effetti ci servirà una barca così la sirenetta potrà far visita ai suoi in mezzo al mare ci vuole anche l'ancora per non andare giù alla deriva ma adesso accendiamo tutte le luci più a sinistra no più a destra poco poco ancora perfetto mettiamo anche dei gradini per fare salire più velocemente ti ho portato dei tronchetti decorativi ci potremo anche legare la barca un po' di sabbia per fare la spiaggia siu volevo legare la barca ma è andato tutto sterto di nuovo solo un attimo oppla adesso sei libero la corda va qui e i remi qui meraviglioso allora com'è venuta dai siu vediamo dai 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 subito sammy alla prossima aiuto siamo nei guai che è successo se mi racconta adesso anche gli altri pupazzetti vogliono una casa uno la vuole sul mare uno con la piscina e un altro vuole persino la billetta tre piani sammy sarà mica che ti piace così tanto costruire che vuoi farne altre ancora ragazzi volete vedere altri video qui sul nostro canale allora mettete un like e iscrivetevi al canale alla prossima ciao 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 ciao